e andiamo a scoprire quale sarà il nostro video oddio che schifo è però è bello, è molto bello intanto la miniatura è qualcosa di spettacolare si tratta di uno sword wings sono esseri insettoidi che hanno una struttura corporea come quella umana hanno una testa con una faccia d'insetto due braccia sul torace e due gambe sull'addome le teste delle spade spesso appaiono snelle con un'elegante forma oblunga che termina con punta, corna o piccole lame le loro braccia e gambe non hanno dita dei piedi ma sfoggiano estremità spinose la loro caratteristica più notevole sono per l'appunto le ali che non vengono necessariamente utilizzate per volare quanto per combattere sono affilate e capaci di oscillare come falci per squarciare i nemici la loro pelle è un esoscheletro su tutto il corpo tranne per le ali e può avere molte varianti di colore dal blu al viola intenso questi esseri provengono da un'antica civiltà che giace nelle profondità più cavernose del sottosuolo si annida tra strutture capovolte che si fondono con le stalattiti una volta erano molto più simili agli umani avevano più carne e forse anche capelli anche se probabilmente non erano esattamente umani si pensa che un grande cataclismo nella loro storia conosciuto semplicemente come il grande terremoto li abbia allontanati dal loro luogo originario del mondo di sopra dove erano praticamente un popolo nomade successivamente al terremoto gli umanoidi iniziarono a svegliarsi con strane croste che crescevano sulla loro pelle e la possibile perdita dei denti e della lingua nel giro di pochi anni molti furono colpiti da questa strana afflizione che terrorizzò lo stessi così come le altre razze che li vedevano non riuscivano a trovare un posto dove riposare perché tutti erano sicuri che fossero contagiosi con qualche strana maledizione o malattia la trasformazione doveva essere ancora completata mentre il mondo li spingeva gli umanoidi continuavano a cambiare facendo spuntare piccole ali che poi crescevano fino a raggiungere le dimensioni delle lame hanno perso ogni traccia della loro pelle diventando incapsulati in un esoscheletro come quello degli insetti i loro volti cambiarono per avere mandibole le loro menti sembravano aver perso qualcosa di vitale che li ancorava agli esseri umani una voce li attirò nel sottosuolo obbedirono a questa voce come se fossero trascinati in una specie di trance forse un altro effetto dovuto alla loro trasformazione furono chiamati in massa nel luogo in cui vivono oggi una volta lì la voce comandò loro di costruire una città che avrebbe ospitato e allevato le loro forze come una caserma fino al momento in cui sarebbero diventati una forza potente tipo un esercito risiedono lì fino ad oggi espandendo la loro città che si chiama Albert Zebul che devo dire se non che è un mostro veramente interessante con una storia altrettanto interessante lasciate un like ci vediamo al prossimo mostro